Eccoci ragazzi, siamo qui con il giorno dopo di Lazio-Roma, derby della capitale, venerdì 15 gennaio alle 20.45, finita 3-0 per la Lazio, mamma mia, che partita che abbiamo fatto ieri sera, veramente una partita assurda, Roma umiliata, asfaltata, tre pappine al derby e a casa. Prima di iniziare vi faccio vedere la classifica, allora Lazio che conquista la terza vittoria consecutiva, infatti un pochino sta recuperando però non è comunque messa bene, ci sono ancora diversi punti da recuperare, è andata a tre punti sotto la Roma, che ora è terza però ancora Juve, Atalanta e Napoli che possono sorpassarla in due partite in meno, quindi la Lazio ha tre punti sotto la Roma, questo comunque è abbastanza buono. È a pari di Napoli e Atalanta, solo che hanno due partite in meno, quindi comunque nel caso che dovessero vincere tutte e due, ne avrebbero 34 e 37, quindi sei punti che non sono affatto pochi. Ora dobbiamo andare in continuità questa vittoria, speriamo che riusciremo perché comunque nessuna parte Milan e Inter, forse solo Milan, è particolarissimamente fortissima quest'anno, cioè rispetto all'anno scorso sono meno i punti fatti nel girone d'andata, soprattutto di Juve, Napoli, Atalanta, invece il Milan e Inter sono su, però vabbè loro già sono lontani. Vedremo quindi, speriamo che la Lazio riuscirà a dare continuità a queste tre vittorie consecutive. Poi vi faccio vedere la classifica di marcatori perché Ciro Immobile con il gol di ieri è sempre al terzo posto, però ha agguantato Romelu Lukaku dell'Inter a quota 12 gol. Primo è Cristiano Ronaldo a 15, quindi Ciro se la gioca con Lukaku per ora per il secondo posto, quindi in 17 partite giocate mi sembra o 18, forse 18, 12 gol, però Ciro non credo le abbia giocate tutte, forse non giocate tipo 16, così. Poi c'è Luis Alberto, ragazzi, incredibile, che è tipo il ventesimo posto, sì, il diciottesimo posto, centrocampista, con 6 gol, sono andato a vedere quante partite ho giocato, in 16 partite giocate, numero assurdo per Luis Alberto. Resta il fatto però incredibile, negativo, che non ha fatto neanche un assist, questo è veramente stranissimo, lui che è il re degli assist non ne ha ancora fatto uno. Poi c'è Filippo Caicedo, anche lui, a 6. Quindi la prossima partita, ragazzi, sarà contro 19 giornata, quindi l'ultima contro il Sassuolo, mi sembra, esatto, domenica 24 gennaio contro il Sassuolo, quindi tra una settimana. Che poi il 21 c'è anche la Coppa Italia contro il Parma. Comunque parliamo di Lazio-Ru, bellissima partita come già vi ho anticipato, parte abbastanza combattuta. Va subito in vantaggio la Lazio, il 14esimo minuto, con Ciro Immobile, su uno svarione di Vagnez. Arriva la ripartenza della Lazio, palla di là per Vagnez, però i Vagnez erano in anticipo. Poi va verso il portiere, con calma, come se si fosse dimenticato che dietro aveva Lazari, che arriva di corsa come un treno. I Vagnez, cercando di tirare via il pallone, stava arrivando Lazari, scivola, lo colpisce male, il pallone va contro lo stinco tipo di Lazari. Arriva lì al centro area, dove Immobile è più veloce ad arrivare sul pallone di Smalling, più veloce di Smalling ad arrivare sul pallone. E lo piazza dentro, a due o tre metri alla porta, all'incrocio, dove Paolo Lopez in uscita non può farci niente. Quindi vantaggio Lazio, con gol di Immobile su assis di Lazari, su svarione di Vagnez, che è partito malissimo. E stasera ha fatto veramente una brutta serata, ha passato una bruttissima serata. Poi, dieci minuti dopo, nove minuti dopo, arriva il raddoppio della Lazio con Luis Alberto, su assist ancora di Lazari. Altri ragazzi, in questa partita, siamo stati veramente cinicissimi. Capita rarissimamente che la Lazio ha le palle gol e le sfrutta. Di solito facciamo 15 tiri e buttiamo dentro un gol. Comunque, gol di Luis Alberto, bello anche questo. Di scena sulla fascia di Lazari, che annienta i Vagnez, lo supera in velocità. Poi c'è forse un contatto, dubbio, però credo che Lazari fosse inciampato, non era rigore. Comunque, si rialza, la mette dietro per Luis Alberto, che di prima incrocia con un gran destro e Paolo Lopez in tuffo, non può farci niente. Restava la posizione in dubbio di Caicedo, che forse, probabilmente, non lo so, era in fuorigioco e potrebbe aver disturbato la visuale a Paolo Lopez. Quella è una cosa che era stata in dubbio. Quindi, comunque, in dieci minuti, al ventitraesimo, la Lazio è già in vantaggio 2-0. Infatti, lì si è messa molto bene. Poi, al fine del primo tempo, che scorre con la Roma che attacca, prova a far gol, ma alla fine non ha nessuna occasione pericolosa. Ci ha provato, ci ha provato, però alla fine occasioni pericolose erano proprio poche, se non 0. Invece la Lazio, appena andava in avanti, con tiri e tutto, si rendeva sempre pericolosa. Poi, avvia il secondo tempo. La Lazio, che per fortuna non si abbassa, continua a ribattere e ad attaccare. Secondo tempo, nonostante la Roma dovesse recuperare ben due gol, è la Lazio che fa il gioco e domina praticamente tutto il secondo tempo. Tipo dal cinquantacinquesimo minuto in poi. Infatti, dal sessantasettesimo arriva un altro gol di Luisa Alberto, doppietta per lui oggi, con un assist di Agpa Acpro. Di là sulla destra, Agpa Acpro la mette al centro, rasoterra appena fuori dall'area, Luisa Alberto stoppa tocchettino. Destro a giro, non potente, ma angolatissimo, imprendibile per Paolo Lopez, che in tuffo non ci arriva. Quindi doppietta di Luisa Alberto. E poi alla fine sì, abbiamo avuto anche altre occasioni, tipo su grandissime palle filtranti di Luisa Alberto, immobile che ha fatto due tiri, uno murato. Anche Milinkovic ha provato un tiro di destro, o beh, la parata di Paolo Lopez, insomma, al secondo tempo dominato. Secondo me anche 4-0 volendo potevano vincere. Poi al finale è arrivato un tiro insidiosissimo di Geko, che Reina però ha parato alla grande. E niente, finisce così. Da sottolineare la grandissima prestazione di Luisa Alberto e Lazzari, anche immobile però soprattutto Luisa Alberto e Lazzari. Luisa Alberto è veramente un centrocampista da incorniciare, quando in serata mette palloni filtranti, gol, tutto, tutto, è veramente fortissimo. E anche Lazzari ha mandato in tilt la fascia sinistra della Roma con Spinazzola, che non ha fatto un gran lavoro, e i bagnets, che non era proprio in serata. Ha messo palloni al centro, assist, correva sia in difesa che in attacco. Ha fatto di tutto Lazzari. E anche immobile ci ha messo il suo, che ha segnato un gol. Comunque ha corso tantissimo anche lui. si è fatto vedere un molti in attacco, prendeva il pallone Luisa Alberto e gli sparava verso la porta. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Grande, grandissima partita della Lazzari. Tra l'altro ha anche indovinato il pronostico gameplay, che era finita a 3-0. Ora aveva segnato immobile Milinkovic e forse Luisa Alberto, sapete? Forse Luisa Alberto. Oppure Correa, non mi ricordo. grande prestazione la Lazio, che quindi umilia la Roma nel derby. Mamma mia, sono contentissima. Io lo vedevo male, su derby invece la Lazio si è tirata su così. Grande Lazio, grande. Speriamo di dare continuità a questo periodo, a queste tre vittorie di fira. La prossima, come vi ho fatto vedere, contro il Sassuolo, che in classifica è messo bene. Se vincesse questa partita, supererebbe la Lazio, andrebbe a quota 32 punti, quindi sarebbe uno scontro alla pari. Speriamo di vincerlo. Dai, dai. E niente, ragazzi, direi che il video può finire qui. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Bella, ragazzi. Di forza Lazio, fino alla fine.